Paolo ha anticipato l'ennesima cherela, l'ennesimo battibecco tra Ragneri e Mourinho. Insomma, ci ricostruisce tutto Francesco Rocchi e poi facciamo due chiacchiere in attesa delle sintesi. Evidentemente gli devo stare molto a cuore, parla spesso di me. No, io non... non mi importa a me quello che pensa, quello che dice, anzi, mi annoia. La noia di Ragneri? Che cos'è la noia di Ragneri? chiede Mourinho affidando la sua risposta al sito nerazzurro. Ho studiato e conosco solo la nausea di Jean Paul Sartre, filosofo, premio Nobel, ma anche grande appassionato di calcio. Una rese dei conti dal sapore western, dove questa volta non c'è in paglio solo qualche dollaro in più. Ora i due tecnici si sfidano a colpi di opere letterarie. Alberto Moravia, la noia, contro Jean Paul Sartre, la nausea. Ma non importa quale dei due romanzi sia più illustre o conosciuto. Ciò che conta è che domenica 22 giocatori in campo si sfideranno a distanza tra Verona e Siena, per conquistare uno scudetto. Ma per Ragneri e Mourinho ormai è una questione personale. Siete voi che lo fate diventare fenomeno. Per me è un buon allenatore. E parla adesso Ragneri che è stato in Inghilterra cinque anni per dire buongiorno, good afternoon and good morning. Per lui è stato un grande problema dopo cinque anni.